Dalla sede regionale sono arrivate delle importanti novità sul tema delle guardie mediche. In settimana è stato infatti firmato un accordo di continuità assistenziale dove la Federazione dei Medici di Medicina Generale e i sindacati di categoria hanno consentito un adeguamento di stipendio richiesto da tempo dai dottori in camice bianco del territorio. Si passa dunque dagli attuali 23 euro all'ora ad una retribuzione che potrebbe arrivare fino a 40 euro l'ora. Un piccolo passo in avanti che cerca di mantenere al loro posto i medici ma non ancora sufficiente per riaprire i presidi di guardia medica sul territorio. Soddisfatto di questo spiraglio aperto dalla regione il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli. Ho buone ragioni per essere abbastanza fiducioso che si possa potenziare la casa salute, riaprire magari in oretta il sabato mattina e ripristinare la guardia medica non solo a Vallefoglia per la verità o in questa casa della salute ma anche in altri luoghi. A noi ci interessa qui ovviamente. Ecco quindi la tutela della salute viene al primo posto in assoluto e spero che ci sia una risposta positiva. Bisognerebbe cercare di convincerli che la casa della salute o la casa di comunità o i luoghi non solo di Vallefoglia per la verità perché le guardie mediche sono state tolte quasi ovunque in giro per la provincia e c'è un malcontento grossissimo. Io nei colloqui che ho avuto anche con il Presidente della Giunta regionale, con l'assessore e con l'assessore anche diciamo Saltamartini ho fatto presente che non è assolutamente possibile che non ci sia la guardia medica che poi lo fanno i giovani medici o lo fanno i medici di medicina generale che in quest'area sono circa una trentina però bisogna parlarci, bisogna dialogare, bisogna cercare di convincerli. L'urgenza c'è, io ho preso contatti anche con la struttura tecnica oltre che con la struttura politica Presidente e i due assessori, uno per le infrastrutture che è l'assessore Baldelli e l'assessore Saltamartini che è l'assessore alla tutela della salute dei marchigiani ma anche con le strutture tecniche per vedere se abbiamo detto che i sindaci potrebbero anche dare una mano in quest'opera di persuasione con i medici perché c'è questa urgenza, questa emergenza che bisogna cercare di colmare. Quindi spero che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane la Regione siccome è in compito suo risolva questo problema.